Idioti! Utili idioti del Cremlino! Ce ne sono qui! Chi c'è chi c'è chi c'è? Ucraina! Silensky! Ecco, guardate, sono venuti di Corsa, come le galline durante il foraggio, come allo solito. In questo modo è molto facile identificare gli utili idioti di Putin. Potete provare anche voi, vi assicuro, reagiscono a tutto ciò che è Ucraina come un toro al rosso del mantello di un torero. Io sono Katia Nesterenko ed ora vi spiego perché. Le notizie che vengono sono scioccanti ogni giorno di più. Ad esempio, è stato annullato il concerto del gruppo musicale del popolarissimo scrittore ucraino Serhii Jadan, che avrebbe dovuto tenersi il 2 settembre a Milano nell'ambito del tour Kartia. Il concerto è stato annullato proprio a causa degli idioti del Cremlino. Serhii Jadan stesso ha spiegato cosa è successo. Lui ha pubblicato la corrispondenza con l'organizzatore dello spettacolo. Si scopre che il tour a sostegno dei difensori dell'Ucraina contro gli aggressori russi è stato cancellato. Perché? Attenzione! Per non raccogliere i fonti per la guerra. Una spiegazione disgustosa, secondo me. Però lo stesso scrittore lo ha spiegato meglio. Perché abbiamo cancellato il concerto di Milano? Perché alcuni europei continuano a giocare al pacifismo e ai doppi standard e credono sinceramente che gli ucraini, difendendo le loro vite e il loro paese, violino alcune delle loro idee sulla pace e l'armonia. E quelli che cercano di sostenere il loro connazionale nella lotta contro struppatori e saccheggiatori sono fascisti ed estremisti. A proposito, è tornato sul palco uno dei più famosi giocatori di doppio standard italiani. Mi volete chiedere dove si è presentato? Ovviamente alla televisione italiana, che tradizionalmente mastica qualsiasi cosa, però preferisce soprattutto il brodo preparato dai propagandisti russi. Sembra che al professore Orsini abbiano preparato una porzione speciale, mischiata con i rubli, che quello scienziato abbia preparato la nuova recita per la RAI con una nuova dose di stupidità. La situazione in Ucraina è semplicemente disastrosa, quindi è impressionante che non se ne parli, perché la situazione quest'estate è molto peggiorata rispetto al giorno in cui ci siamo salutati, nell'ultima puntata di Carta Bianca, quindi l'ogica vorrebbe che se ne parlasse di più. Quello che è successo in Ucraina è che il paese è sempre più devastato e in questo momento la vittoria militare più importante l'ha conseguita la Russia, una vittoria di grande importanza. Il 2 luglio, il 3 luglio scorso, la Russia ha conquistato una delle due regioni che costituiscono il Donbass, varia a dire il Lugansk, quindi se, come è prevedibile, la Russia dovesse travolgere Kramatorsk e Slomansk, la situazione per l'Ucraina diventerebbe ipertragica. Stiamo nascondendo il fallimento della strategia dell'Occidente, minimizzando la devastazione dell'Ucraina e in Italia si è creato un tifo da stadio per l'Ucraina, ma la situazione è tragica. Dopo due mesi di assenza dalla TV, il professore Alessandro Orsini torna a parlare della guerra in Ucraina in occasione della prima puntata della stagione di Caffè Bianca su Rai 3. Nell'emaginario dei propagandisti del Kremlino, la Russia sarebbe ottenuto vittoria su vittoria, ma in realtà presto avranno un triste e tragico anniversario da ricordare. 50.000 soldati uccisi in guerra, esplosioni di dozzine di magazzini con armi e panico della popolazione. In Italia oggi avviene quello che i russi, soprattutto gli oligarchi russi, patiscono come un genocidio, cioè l'impossibilità di viaggiare in Europa e godere di quello che non hanno mai potuto apprezzare la civiltà. Poverini! Scorre una furtiva lacrima! Oh no! Insomma, un altro uomo ricco del ridicolo paese delle bugie è stato trasformato in un povero. Al miliardario Vecislav Cantor hanno fatto confiscare 11, non sto scherzando, esattamente 11 ville situate sulla costa nord orientale della Sardegna. Vi devo dire di più, molte di queste ville confiscate furono acquistate dalla famiglia Berlusconi! Il Consiglio d'Europa ha ordinato la confisca dei beni di Cantor ad aprile, oltre alle sanzioni personali. Ci sono voluti quasi quattro mesi per sequestrare le ville e a causa di un complesso schema di proprietà il processo si è concluso finalmente solo ad agosto. Ed ora torniamo a Don Silvio, a chi ha comprato le ville per quel russo. Tanto per non dimenticare, e ancora una volta, quel russo ha comprato le ville a prezzo bassissimo, da svendita! Ed ora Berlusca queste ville può riacquistare. Buon affare, no? Per rivenderle a prezzo nuovo, si può dire tutto e di più, ma Berlusca sa come fare i soldi, eh? A proposito dei guadagni, anzi, degli affitti e degli ucraini. Il quotidiano Il Terreno scrive Mentre l'Ucraina respinge l'aggressione russa, il presidente ucraino Zelensky affitta la sua villa a Forte dei Marmi per 50.000 euro al mese a una coppia di cittadini russi. Sa bene che Il Terreno cerca sempre di essere obiettivo ed anche collabora con i giornalisti che sono veramente onesti e professionali. Ho avuto la fortuna di scoprirlo personalmente quando facevo un servizio televisivo a Forte dei Marmi sugli stranieri che si sposano in Italia. Sono molto grata che i colleghi stiano seguendo il tema. Non si stancano. Dobbiamo verificare tutti i fatti, ovviamente. Questa volta scrivono che è stato riferito che erano state aperte le trattative per una casa con diversi turisti coreani, ma le trattative erano fallite. La scelta sarebbe poi ricaduta su inquilini russi, una coppia che attualmente vive e lavora a Londra. Devo dire che tutte queste informazioni si sono rivelate la solita illusione degli utili idioti del Cremlino. L'agente immobilare di Real Estate Forte dei Marmi Villas Claudio Salvini in un commento alla stampa ha negato l'affitto della villa Zelensky ai russi. Da quello che dice la moglie del presidente, Olena Zelensky, ha dato mandato alla società di affittare la villa esclusivamente con la clausola senza russi. A proposito, presto la clausola non russian sarà inclusa in tutta Europa. I ministri degli affari esteri del paese, del UE, hanno deciso di sospendere la procedura semplificata per il rilascio dei visti ai cittadini russi sullo sfondo dell'invasione dell'Ucraina. Cosa significa? Soldi meno sporchi, turisti meno arroganti, magari anche meno propaganda. Speriamo! Speriamo!